Attenzione di Guido a Guato, prova lui! Mi hanno dato le bottiglie di champagne, pericolosissimo! Attenzione di Guido a Roberto, fra un po'. Vai Piguido! Ci siamo, ci siamo, benvenuti, bella gente, occhio! Attenzione, eh! Massimo, non lo so! Andiamo a fare le foto, vai! Serviva uno più forte di Maranchelli! Ok, ci siamo giocati la schiena tutti quanti! No, ma i fassuti ragazzi, che vi teniamo a fare? Tutti questi palestrati! Francesco serviti tu dovevi alzare? beh ragà io ho lo spumante vi conviene levarmelo entro 10 secondi